Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.La ballerina Francesca Tocca ha abbandonato gli studi di Amici, ecco cosa le è successo Francesca Tocca è una ballerina professionista che si esibisce da moltissimi anni nel programma di Maria De Filippi, Amici, portando sul palco esibizioni bellissime che danno prova del suo grande talento La ballerina è sposata con Raimondo Todaro, anche lui ballerino, con cui condivide anche la passione per la danza, e con cui si è esibita sin da quando erano giovani vincendo diversi premi Grazie a questa passione i due si sono innamorati, costruendo insieme una famiglia con la piccola Jasmine, nata nel 2013, mentre l'anno seguente i due hanno deciso di sposarsi Negli ultimi anni i due hanno preso strade diverse, anche se i motivi non sono ancora conosciuti Francesca Tocca ora sembra non essere più presente in alcuna puntata del programma, e molti hanno notato la sua assenza Che sia collegabile alla storia d'amore con Raimondo Todaro Cosa è successo a Francesca Tocca appunto la storia d'amore tra i due ballerini che sembrava indistruttibile La storia d'amore ha avuto, però, qualche crisi, a partire dalla presunta relazione di Francesca con l'allievo ballerino Valentin Dumitru, con cui era evidente il flirt durante le coreografie che comprendevano baci abbastanza passionali, e Valentin è stato costretto ad abbandonare il programma L'anno dopo questo evento, il compagno Raimondo Todaro ha iniziato a insegnare nella scuola di amici insieme alle adorate maestre Veronica Peparini e Alessandra Celentano Così i due hanno avuto modo di rincontrarsi e di riallacciare i rapporti iniziando un nuovo capitolo insieme, cosa che entrambi hanno voluto comunicare in prima persona Nella nuova edizione di Amici, ad esibirsi in coppia con Francesca Tocca è il ballerino Mattia Zenzola, ma ultimamente la donna non compare più sullo schermo Una nuova crisi tra i due ballerini? Il fatto sospetto che ha incuriosito tutti è nato durante la puntata di Amici durante la quale sono stati eliminati gli allievi Niveo e la ballerina Benedetta Quest'ultima è comunque rimasta all'interno della scuola per poter essere la compagna di ballo di Mattia, sostituendo così Francesca A quel punto molte sono state le domande sui motivi per cui Francesca Tocca non fosse più presente nel programma, probabilmente si potrebbe trattare di una nuova crisi con il marito, anche se non è stato in alcun modo confermato da nessuno Così le vere ragioni dell'abbandono degli studi di Amici da parte della ballerina ad oggi, non si conoscono Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video